e sostengono malattie e guai. Beati quelli che sopporteranno in pace, che da Te altissimo saranno ricompensati. Lutato sì, mio Signore, per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo che viva può scappare. Guai a quelli che morranno in peccato mortale, beati quelli che troveranno le Tue santissime volontà, che la seconda morte non gli farà male. Lodate e benedite il mio Signore, ringraziate e servitelo con grande umiltà.